Più volte è stata sottolineata l'importanza di abbellire l'immagine di Brindisi, che potenzialmente non ha nulla da invidiare alle altre città portuali e non. L'arredo urbano, infatti, altro non è che la pubblicità che un luogo offre agli occhi dei turisti o di altri fruitori provenienti da altri comuni. Una cartolina, dunque, capace di rendere attrattivo il proprio prodotto. Il capoluogo adriatico ha cambiato volto nel corso degli anni e l'attuale amministrazione intende maggiormente sfruttarne l'essenza. Gli elementi di arredo urbano riescono quindi a offrire servizi di informazione ai fruitori in modo molto semplice, coniugando funzionalità e stile. La loro presenza offre alla comunità soluzioni pratiche nell'arco della giornata, quando magari passeggiano per le strade della loro città. L'arredo urbano è una combinazione, quindi, di elementi fissi o mobili funzionali ad un luogo. Tra questi rientrano le panchine, le fioriere, i dissuasori, gli orologi stradali e tanti altri utilissimi elementi. La loro collocazione riesce a rendere più vivibile una città, valorizzando il territorio e rispettando le esigenze dei cittadini. Pertanto, il tema dell'arredo urbano rientra a pieno titolo fra i fattori determinanti che contribuiscono a costruire l'identità di una città e del suo territorio. L'obiettivo di un progetto di arredo urbano è quello di creare uno spazio di aggregazione che garantisca una particolare attenzione per il contesto e la valorizzazione delle sue forme. L'inserimento di elementi ed arredi di qualità ha l'obiettivo di ridefinire una nuova identità di una determinata area, dove le persone appariranno incoraggiate e sosterranno volentieri una piazza ben attrezzata, studiata come un salotto urbano e resa più funzionale grazie all'introduzione degli arredi e del verde. La precedente amministrazione, come uno degli ultimi atti prima della conclusione del proprio mandato, aveva destinato di concerto con il Duc 50.000 euro per installare 15 fioriere e colonnari, con lo scopo di scandire lo sviluppo dell'intero tratto lungo 400 metri dell'incrocio fra Corso Umberto e Corso Rome e Piazza Chairoli, meglio riconnettendosi anche con via conserva, pedonalizzata e caratterizzata da un notevole livello di arredo urbano, che ne hanno fatto un luogo di certa riconoscibilità a supporto degli esercizi commerciali presenti. Il nuovo governo cittadino intende quindi supportare tale iniziativa, con altre opere ancora non rese note, ma che nei prossimi mesi potranno svelarsi alla comunità, perché lo sviluppo di una città passa anche attraverso l'abbellimento delle proprie strade, specie del centro urbano, tenendo conto che la prossima settimana a Brindisi faranno visita ai vertici UNESCO, per la decisione finale di far rientrare o meno la viappia nel patrimonio mondiale dell'umanità. Ad maiore a Brindisi lo si spera.